Con Massimo Piacenti a commentare, Presidente, una serata per l'All Foods Fiorentina, io ho detto che va oltre l'eroico perché ha perso Tourette, poi ha perso Lasagni, una partita sporchissima, difficile, l'avete portata a casa due punti, che mi dica lei se valgono 4 o 6, un po' qualche considerazione? Per la classifica purtroppo valgono 2, per il morale valgono 100, io ho parlato con i ragazzi, lo faccio raramente, gli ho fatto i complimenti quelli veri di cuore perché questa sera hanno dimostrato di essere un gruppo eccezionale, avevo parlato anche in settimana singolarmente, eccezionalmente, perché avevo visto un momento di difficoltà. Noi abbiamo cercato anche di fare mercato, ci tengo a dire che la società si è impegnata tantissimo per cercare atleti, visto che abbiamo una rosa un po' ristretta, però volevo dire ai ragazzi di mettercela tutta perché sono ragazzi che hanno grandi qualità, tecniche ma anche umane. Ho avuto proprio questo aspetto dell'umano, del cuore, stasera è venuto fuori perché era facile arrendersi, no? Quando si è fatto male Touré? Era facile pensare che la partita fosse finita anche perché stavamo giocando con una squadra crema che veniva da 8 vittorie consecutive, una squadra molto fallosa e tra l'altro una squadra che nella partita di andata, lo voglio ricordare, ruppe Valentini, diciamo così. Quindi c'era un precedente anche molto negativo. Con l'infortunio di Touré tutti noi abbiamo pensato che lì sarebbe finita. Lì è venuta fuori davvero l'anima più profonda e questo è un'anima profonda su cui si è lavorato. Ci ha lavorato tutto lo staff e io li ho ringraziati tutti, ho ringraziato uno ad uno tutti i ragazzi e gli ho detto che debbono mettersi in testa che sono una squadra forte che può competere con tutti. In queste due ultime partite difficilissime proveremo a giocarcela per cercare di evitare i play-out e se no affronteremo i play-out. Per i bilanci aspettiamo la fine del campionato perché sono abituato a parlare quando il campionato è finito. Ovviamente anche com'è la situazione di Touré e di Lasagna, naturalmente rendono ancora la squadra più corta, però insomma questa squadra a cuore, quindi in queste due partite tutto è possibile? Tutto è possibile. Io gli ho detto di crederci, gli ho detto che debbono credere fino in fondo nelle loro capacità, nelle loro possibilità, che sono tante. Stasera l'hanno dimostrato, anche grazie al pubblico che comunque li ha incidati fino alla fine. Quindi in queste due partite proveremo a chiudere una stagione che è stata una stagione segnata da incidenti, da difficoltà, ma una stagione che questo è il dato vero che ha fatto nascere una squadra e una società che all'inizio del campionato venivano considerate un po' la cenerentola e che invece si è fatta rispettare. Però i conti, come dicevo, si fanno alla fine, faremo un bilancio alla fine, speriamo che sia un bilancio positivo sul quale ripartire per l'anno prossimo.